E ben tornati a tutti in questo nuovissimo video E ben tornati a tutti in questo nuovissimo video Ho cercato di volare via adesso Scusate Ciao Ciao Ciao, sono un cane Comunque adesso ci sposteremo Aspetta Aspetta Ma adesso non è scappata Faccio Ci siamo spostati sul Divano Ecco, sul divano di casa di Di chi, secondo te? Di nonno Eh, è vero Intanto vediamo Matteo che mi frega il verso Ah, è vuoto Comunque dopo Eh, spero che stai piaciuti Lo so che non è un grande video Però dopo farò un altro video Dove faremo la battle royale Bastante un gioco E ora faremo le linguacce Ehi, ciao Ciao